Immaginate di trovarvi ogni lunedì sera a metà settimana, quando l'aria è carica di aspettative e divertimento. È il momento in cui le risate si mescolano alla curiosità. Questo è il motivo per cui non potete perdervi il Jalapa Show, trasmesso in prima visione assoluta su TV8 e Sky 1 alle 21.30. Qui, l'eclettico Luigi esposito di Gigi e Ross da vita un'imitazione che farà rumore, il conduttore più amato di Rai 1, Stefano De Martino. Mentre lo schermo si illumina, le parole di esposito risuonano come un'epifania, 27%. Ho superato le aspettative. E un saluto al mio grande collega, Amadeus. Uniamo le forze. Facciamo il 30% insieme. Ma non fermatevi qui. La tensione si fa palpabile quando l'imitatore si difende con ironia. Non iniziamo a paragonarmi al leggendario Renzo Arbore. Non sono il nuovo Renzo, ma piuttosto l'ombra del grande Stefano e il pubblico esplode in una risata collettiva. Un'ingenua richiesta risuona nell'aria. Sanremo, per favore, lasciatemi fuori. Sapete cosa? Ogni parola, ogni versetto è carico di vitalità e di un'atmosfera di festosa attesa, grazie a un talento che sa come incantare il suo pubblico. Scoprite il lato divertente della televisione. Non è solo uno show, è un'ora che promette sorpresa e intrattenimento, culminando in un finale che non dimenticherete facilmente. Prepatevi, perché la vera magia arriva alla fine. Ma ciò che offre il Jalapa Show è un viaggio di risate a cui non potete resistere e se volete saperne di più, sintonizzatevi. Grazie a tutti.